bene ragazzi siamo questa sera col buon guido donnini e con jesiot per la semifinale del torneo pauper old school guido è risuscitato secondo le scritture e niente questa sera abbiamo quindi jesiot contro guido 2 rg zoo mirror di zoo e avremo in un bel mirror sia in semifinale che in finale dove vi attende chiunque so sia un altro zoo quindi che dire ragazzi è tutta vostra ha perso roberto sì 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 è vinto zoo ok beh fai due tre uno e teo guarda il mezzo sopra il resto parto io allora no dai perfetto boh terremo sta roba terremo sta roba che devo fare va bene anch'io tengo dai resta chia vai perfetto pesco c'è foresta montagna e trolevo subito guarda così almeno si si leva il problema si vai pure metto un altro vai evviva sta propresco farei deserto e ti metto un bel bagno gigante vai prendi un bel bagno gigante vai beh, bello gigante, vai, pesca, poggerei una montagna e passo, mi attacchi con ragno, mi attacchi noi il ragno, ci vorrei sparare sopra un bot, va bene, e prendo due e ti sparo due danni sul ragno, vai, baroni shot, stacco pesco, calo morti e vai, metto una fratellanza, vai, quella fa dei danni, io tappo fa danni, è un 2-2, un 2-2, ok, carta in mano, tre, vorrei shotarti la fratellanza, va bene, qualche pesco, eh vabbè, montagna, vai, beh, però hai pescato abbastanza botti, vai, sì, ho pescato abbastanza botti, vado? Sì, sì, pesco, passo, sono le foreste, mi mancano, botti no, vai, pesco, vai, faccio un bot da tre, faccio un bot da 15, va bene, pesco, me ne faccio 5, me ne fai 5 con una palla, si, con un disinter, vai, vado a 10, pesco, oh, finalmente, foresta, la larva, vai, va bene, come pesco, mi dice, faccio 6, eh vabbè, così, massimo, muore, è vero? Ah, sì, vai, faccio uno scribe, va bene, ti attacco per 1, sì, vai, 19, vai, sì, come ne arriverò, ne faccio altri 6, è molto bello, è stata una partita, la 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 partita, sì, ho aperto il cane, stava pulando per entrare, vai, come ti pare, dimmi te, ma anche te come ti pare, va bene, non c'è problema, ok, siamo a 7, siamo a 7, ma, vabbè, vabbè, terreno, tanto basta che ci siano le terpue, tanto qua le partite devono in giulino, dimmi te, io tengo, tu? Tengo anch'io, quarto, terra la tua, vai, eh, niente, io devo fare terrafirte, non c'ho i botti, per il tuo lana, guarda, terrafirte, ok, sì, tappo pesco, faccio montagna, scribe, scribe, vai, minchia, non funziona la minaccia, foresta, piazzo un lupo, e ti attacco a qualche, ahia, 19, vai, stappo pesco, ehm, eh, due, giusto? Eh, sopra, ci penso, ehm, ci, no, non ci faccio niente, faccio, lano, arrecchirte, ah, diciamo, pesco, ehm, faccio una fratellanza, vai, ok, tappo pesco, farei, sì, da due sulla fratellanza, disintegri da due sulla fratellanza, allora diventavo tre, aspetta, perché quell'affare che fa, pompa alle rature, sì, da più non più non le bestie, eh, ha ragione, c'ho il mal avrei fatto da tre, e dopo di che vorrei combattere, vai, combattere, allora questo è stappato, aspetta, allora se la fai da tre, questo è stappato, va bene? Sì, sì, è stappato, non attaccare colchia, perché si attacchi colchia, 3, 4, che siamo lì, tanta colchia, ecco, siamo d'accordo, dai, 16, dai, fassi? Sì, poi ti spiegherò anche perché questa cosa mi era sfuggita, perché non ho letto, non ho letto il lupo, c'è, sapevo che faceva perché l'avevo rivisto, ma non mi ricorda. Fa me pensare. Faccio fireball da due danni sui due volanti, va? Ok, e ti attacco col Kirdaei. Bene, alla 17. Vai, vai, scusa, eri a, sì, era 18. 9, meno 2, 17, giusto? No, no, Kirdaei ha picchiato per due la prima volta. 2, 2. Eh, difatti, sarà 16. Ok. Siamo 16 pari. 16 pari, va bene. Sacco pesco. Quello list può anche autocompare, no? Solamente altri. Sì, sì, no, anche lui si può pompare. Può pompare anche per sé. Ok. Te carte a mano? 3. 3. Io attaccherei col Kird. Ok, quello, quello passa. E quindi vai a 14. Sì. E passa. Tu hai tre carte, vabbè, attacchi con un Kird. Attacchi con un Kird. E lo prenderei. Ok. Vabbè, attacchi. Sì. Poi dopo tappo uno, gioco un altro Kird. E tappo tre con una fratellanza. Vai. Stappo pesco. Vorrei fare un fumo in una catena sulla fratellanza. Ok. E dopodiché vorrei attaccarti con un Gorilla. Prendo due. Vai a 12. Sì. E vai. Ok. L'attacco con due Gorilla. Con due Gorilla. E carte a mano? 2. 2. Pottottò. Li prendo. Vai a 10. Sì. Vai. Passo. Tappo pesco. Faremo la foresta. Sì. Per combattere con un Kird. E basta. Te lo ammazzo con una Fis. È morto. E... Passo. Pesco. Ti attacco con i tuoi Kird. Stai attaccando. Te lo vorrei... Voltare. Qual è? Questo. Vabbè. Lo pompo. Allora. Te lo pompi. E questo lo faccio ovviamente durante la dichiarazione dell'attaccante. Quindi uno c'ha tre danni sopra. E sta tre danni sopra, dai. Ok. E... Te lo paro uno con quello lì con un lanoar e l'altro con un altro lanoar. E... Ci vorrei fare una giant grow sopra, questo lì. E giro una Fis solo a quella della giant grow. Ok. E... Beh. Quindi muoio noi quell'altro e l'altro 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 l'altro. E vai. Stampe questo turno. Sì. Oasi. Vai. Ti attacco. Sì. Oasi. Sì. Lo pompo. Sette. Mettiamo l'anobar. Vai. Sì. Pesco. Vai. Ti attacco. Sì. Pompo l'anobar. Quindi... Sì. Sarebbero quattro. Sarebbero quattro danni. Ok. Allora tre. Sì. Eh... Dopo un altro kill, vai. Pesco e... Tua. Non so. Quattro. Un'altra terra. Ho fatto un full di kill delle carte a casa. Questa è stata un po' più combattuta su... Questa è stata un po' più combattuta. Questa è stata una partita un po' pochettino diversa, ecco. Un po' più combattuta sul board, dai. E là... Questa è una partita un po' più segura. Questa è una partita un po' più 없어. Ok?